ciao piloti allora oggi abbiamo una cosa ben diversa da tutte le altre non ci sarà il video il solito video delle riprese con il drone e tutto quanto come di consueto ogni anno ci alla fine dell'anno faccio un video dei migliori video dell'anno quindi dell'anno questo qui del 2021 a nostro avviso sono i migliori poi magari qualcuno può dire no quelli non sono i migliori ce ne sono altri però io ho cercato di prendere quelli che mi piacevano più di tutti e fare un un video unico come vedeteci qui dietro al me c'è il mare siamo a renalest del sol e volevo darvi farvi gli auguri da questo luogo che per me è importante perché siamo in un luogo dove io mi trovo sempre come naturalmente nel senso che a me il mare piace tantissimo mi piace anche la montagna ma piace anche molto il mare e questo è uno dei luoghi dove vado più dove vengo più frequentemente spero che i video vi piacciano se è un tutto un mix di qualche video che ho fatto in questo anno che per me ripeto sono i migliori e niente spero che che vi piaccia cerchiamo anche di vedere se quest'altro anno sarà un anno migliore speriamo non bisogna far altro che aspettare con questo video voglio vabbè cerco di far vedere le cose migliori che ho fatto ma non so se ci riuscirò comunque vedremo un attimo qui sta per tramontare il sole qui e come vedete c'è una c'è una vista meravigliosa questo è sempre il mar mediterraneo no questa faccia qui siamo vicino alicante qua vicino c'è il porto e c'è anche l'aeroporto quindi siamo veramente in un bel luogo insomma spero che qui da qui io vi do vi faccio tanti auguri di buon natale e vi faccio anche tanti auguri di buon anno io vi rinnovo i miei auguri ora ve li farà anche mia moglie che ora mi raggiungerà che è qui che mi guarda ora mi riprendo un po dall'alto così e vediamo un attimo se la cinepresa riprende va bene vieni dai anche mia moglie qui ciao a tutti godetevi queste riprese sono secondo noi le più belle che ha fatto marcello e niente speriamo che vi piacciano e auguro a tutti buone feste ciao a presto grazie ciao a presto 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 a presto ciao a presto 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 a presto